Ben trovati da TG della mobilità, le proteste in città e riflessi sulla circolazione. Oggi in centro dalle 10 alle 15 manifestazioni in via Molise davanti al Ministero per lo sviluppo economico. Al via da ieri fino al 9 gennaio il piano integrato della mobilità per favorire gli spostamenti con il servizio di trasporto pubblico nel periodo di Natale. Per tutte le informazioni consultare il sito romamobilità.it. Ricordiamo infine che sono iniziati i controlli sul possesso del Green Pass anche sui mezzi pubblici. Il Green Pass è obbligatorio dai 12 anni in su per salire a bordo di bus tra metro e treni regionali. È tutto per questa edizione.